come stavo dicendo e lo lega al gancio dove c'è il battacchio, se no non c'è il gancio prende un sodo, se no se non ha una saldatrice, se no si usa sempre, prende una corta, lo lega all'attacchio fatto con il ferro e il dado, poi lo lega sopra la campana e poi lo sistema con un po' di scotch, ma forse potrebbe andare, vabbè, procediamo con le suonate, guardate qua no, è acceso bello, no? vabbè, comunque erano altre cose, la mia campana di plastica eccolo qua faccio vedere la distesa di questa, se almeno una piccola distesa, piccola vabbè, comunque, farò un video dove si vederà una campana, la campana del muino valeriano, cioè di zio che non andrà proprio a, come una campana, il classico slancio, tratta ma solo così, perché bisogna fare un restauro, perché la campana, allora, il ceppo fa un movimento, invece la campana non fa un altro da quando l'anno messo, vabbè, si farà un restauro, chiuso, magari quando sarà buono, no, dai, ci vediamo, ok, poi se... ho avuto dei torni, oggi, ho avuto un video, ho avuto un video, un video del mio canale, e finalmente un canale tutto mio, fatto con il mio stadio, vabbè, io di una mano di satisfitta questa e se volete vedere altre distese, chiedetemelo su... sui commenti, ciao, mi sento a scrivere il campanale grazie a tutti